Bianconeri sulle salle e a fronte la nuve! La nuve è fede, amore e passione. Segue con noi i bianconeri con lo Juventus Club di Lizzano. Vieni a vedere con noi Juventus Napoli. Sabato 13 febbraio ore 20 e 45, 25esima giornata di campionato. Viaggio andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Lizzano, piazza Matteotti, Lizzano. Per contatti telefonici Antonio 348 80 888 03, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 041 76 23. E sempre forza Juve sino alla fine! Grazie!